Radio Zimmari non è una radio qualunque è una web radio l'unica inimitabile con Sassà Santomauro e chi se no Tapanarea Radio Zimmari con Sassà Santomauro Sassà Santomauro Eccoci qua eccoci qua martedì 11 ottobre 2022 buongiorno al mondo intero e buongiorno alla mia compagna Sia di vita che è di live questa mattina nuovamente con noi Nadia Solani buongiorno Nadia buongiorno buongiorno a tutti e allora e allora facciamo un po' il programma di quello che succederà in questa live dopo il primo brano ci sarà subito la prima notizia cercheremo di dividere le notizie sono tante le notizie Nadia un po' di notizie anche importanti soprattutto per quanto riguarda lo stromboli e allora cercheremo di dividere le notizie in due tranci buongiorno ad Antonio Staiti meno uno buongiorno agli amici di Stromboli stamattina abbiamo provato a fare un collegamento però sicuramente saranno impegnati salutiamo Andrea che è lui che ho cercato di contattare stamattina vediamo vediamo se durante la live o magari che ne so in giornata nella live del pomeriggio riusciamo ad avere notizie davvero dagli abitanti dell'isola di Stromboli amici andiamo al disco pilota la luna è papica questa storia a Radio Gimari web guardo l'ora in macchina qui in città mi domando quanto passerà prima che lei si presenterà non sopporto i suoi ritardi ma riesce sempre a farsi perdonare un'ombra si avvicina ma non sei tu e i tuoi salpinestrino oltre oggi mi dice fammi entrare dai questa storia quanto durerà oramai è già mattina stai ancora qua non sono libero di decidere se è meglio fare un salto fa tuffati nel blu Radio Gimari un tuffo nella musica migliore guardo l'ora in macchina sono settimana che ti aspetto e non so più che fare non ti sei fatto sentire mi domando quanto passerà prima che si presenteranno non sopporto i suoi ritardi ma riesce sempre a farsi perdonare non si avvicina ma non sei tu buongiorno agli amici di Palermo che si sono appena collegati e nonché ai nostri amici di New York mi dice fammi entrare dai questa storia quanto durerà oramai è già mattina stai ancora qua ah quando non sono libero di decidere se è meglio fare un salto fa e noi amici ci fermiamo subito per le prime notizie o andiamo al prossimo facciamo un brano e poi lanciamo le notizie Nadia lanciamo le notizie dai anzi no no lanciamo un brano lanciamo un brano è lui è lui amici ritorna dopo un po' di tempo Renato Zero io non mi stancherò mai di te come voi non vi dovete stancare di Radio G Maria ti penso mi manchi vorrei darti di più più sogni più giorni tante carezze in più ma il mondo ci travolge poi ci indeboliamo noi un arcobaleno almeno nel cielo dei perché io non mi stancherò di te ti penso talmente che non respiro più un fiume di gente ma dove sai questa è Radio Zim Marie Webb l'unica radio che parla di sentimenti di emozioni forti l'unica radio che parla d'amore amore vero chi ti consolerà non ti fidare mentolo non sono come me io non mi stancherò di te accendi un sole la fantasia che più non ho è troppo tempo che non ti sento dove sei io non mi stancherò lo sai e su questo fantastico brano di Renato Zero io non mi stancherò mai di te come noi non ci stanchiamo mai di voi ecco piano piano state arrivando tutti quanti salutiamo gli amici di Aragona e gli amici di Catania e gli amici di Acci Castello ma state arrivando davvero tutti eh gli amici di Caltanisseta buongiorno anche a voi anche agli amici di Gialle eccoci qua anche voi e dopo sparirò buongiorno agli amici di Gravinia di Catania e infine gioiosa Mare Marea e Bianca Villa amici questa è Radio Zim in compagnia di Sassà Santomaro Bocce Stacchetti Anthony Made in Italy per le notizie nonché per l'oroscopo e nonché per il Latino America Nadia Solange a cui daremo ora la linea amici per l'ultimi aggiornamenti dello Stromboli per vedere un po' come la situazione e dall'ordinanza che è un po' che è un po' così verrebbe da ridere ieri quando Andrea mi raccontava l'ordinanza come devono muoversi gli abitanti ragazzi è davvero una cosa strepitosa amici diamo la linea diamo la linea passiamo la parola a Nadia per le notizie a Nadia E sì, partiamo con la prima notizia che arriva dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dove dicono che i flussi lavici sono poco alimentati ma continuano i crolli e i distacchi di materiali che arrivano in mare. Appunto per questo il Centro Operativo Comunale guidato dal Sindaco Riccardo Gullo ha partecipato ieri pomeriggio a una videoconferenza con i Dipartimenti di Protezione Civile Nazionale e Regionale che sono i centri di competenza, la prefettura e le strutture operative. Dopo gli eventi che hanno caratterizzato l'attività vulcanica a partire dal giorno 9 il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha deciso il passaggio a livello di allerta arancione per l'attività eruttiva e il conseguente avvio della fase operativa nazionale di preallarmi così come disposto dal Piano Nazionale di Emergenza del 2015. Infatti tale passaggio comporta in sostanza un'antificazione delle attività di monitoraggio, analisi e valutazione del fenomeno in corso accompagnata da una costante e impuntuale interazione con la popolazione. Appunto di questo volevo sottolineare come aveva accennato prima Sasa parlando ieri con i ragazzi di Stromboli che comunque la situazione oltre a questo è anche molto grave perché dopo l'incendio che c'è stato ha provocato anche che si bruciassero tutti i cavi, i fili che monitoravano lo Stromboli e quindi devono essere comunque la protezione o anche i ragazzi con delle videocamere o dei droni a tenere anche sotto controllo lo Stromboli. Quindi oltre alla preoccupazione c'è anche questa beffa dove praticamente rende ancora più grave il fatto dello Stromboli e per quanto riguarda anche l'ordinanza del sindaco l'abbiamo letta ieri e diciamo che porta un po' di spavento. Grazie 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 e a evitare il rischio di perdere risorse per scadenze non rispettate. I primi due bandi per chiedere a chi è in quescenza alla disponibilità e tornare in azione sono stati pubblicati dal Dipartimento Tecnico e dei Beni Culturali. L'obiettivo è creare un elenco di pensionati a cui attingere ogni volta che ci sarà da portare avanti il procedimento amministrativo per un progetto finanziario con i fondi europei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E basta cattive notizie, anche se poi alla fine, ragazzi, le cattive notizie sono all'ordine del giorno. E noi amici andiamo subito, continuiamo con la musica, la musica di Radio Zima di mattina insieme in compagnia di Sasa ed Anthony Made in Italy con l'aggregazione di Nadia. Per quanto riguarda le notizie, allora, prime tre notizie date, adesso ci ascoltiamo due brani e dopodiché andiamo alle ultime tre notizie. Elodie, Michele Bravi e Guè amici con questo fantastico singolo This Is Elodie, l'album di cui abbiamo estratto Nero Bali. Non mi interesse, non prenderla sul personale, non mi interessa più piacere, ma chi giudica senza conoscere, preferisco il confronto alle maschere. Non ho più voglia di divertirmi bene in casa, ci resta ancora tutta la vita per una scusa, per volare in autostrada e Radio Musica di mattina insieme. Per ascoltare della buona musica? Vai su Radio Zimari, la radio. Radio Zimari, emozioni da sentire e da vivere. Per ascoltare della buona scadenza, non prenderla sul personale, non mi interessa più ridere, alle frasi di chi non capisce che, basta tacere per volersi bene. Non ho più voglia di divertirmi bene in casa, ci resta ancora tutta la vita per una scusa, per volare in autostrada e Radio Musica Cubana. Portiamo i mari, i cellulari, tu vedi nero, io vedo Bali, tu vedi nero, io vedo Bali, tu vedi nero, io vedo Bali, tu vedi nero, io vedo Bali. Ce ne manco, io sono diverso dalle masse, vogliamo via da qua, dalle persone false, io sono solo innamorato della libertà, contro il grano dico tutto quello che a mi va, porto tutta la vita. Radio Zimari, oui, c'est moi. La mente volerò, fino all'alba Bali con la mente volerò, non ho più voglia di vestirmi bene in casa, ci resta ancora tutta la vita per una scusa, per volare in autostrada e Radio Musica Cubana. La mente volerò, fino all'alba Bali, tu vedi nero, io vedo Bali, tu vedi nero, io vedo Bali. Tu vedi nero, io vedo Bali. Ehi Lodi e Michel Bravi insieme a Gwen e i Rubali e noi andiamo, facciamo un salto un po' in Sud America, visto che abbiamo Nadia con noi. Desapparese, giusto? Si dice così Nadia, eh? Fai tu la, eh, fai, fai la pronuncia. Desapparese. Desapparese. E dì anche il nome dell'artista ormai. Case Carrillo. Amici, questa è Radio Zimari in compagnia di Nadia Sassà e Anthony Medi in Italia. Il nome dell'artista ormai. E poi amanece, yeah, yeah. Suena tu nome in una almohada. No me quieres entender. Vuelvo otra vez, per aquesta vera. Y a qui, ad te desapareces. Yeah. La radio con la R maiuscola I traguardi sono fatti per essere raggiunti Non cambiare frequenza, resta con Radio Zimari e con Sasa Santumato I traguardi sono fatti per essere raggiunti O Carrillo Comunque E noi ci rifermiamo amici nuovamente per le ultime tre notizie Da notiziario delle Isole Ole per gentile concezione di Bartolino Leone E noi diamo la linea nuovamente a Nadia E noi diamo la linea nuovamente a Nadia Per il turismo alle Isole Ole e Lipari La Liberty Lines al TTG Travel Experience 2022 Liberty Lines era presente al TTG Travel Experience 2022 La prestigiosa Kermessi internazionale è diventata punto di riferimento per la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo che si terrà a Rimini dal 12 al 14 ottobre Le tre regioni di Rimini rappresentano un'opportunità di confronto di prospettiva e di collaborazione con operatori del settore proveniente da ogni parte del mondo al fin di entrare in contatto con nuovi potenziali partner con i quali sviluppare servizi, offerte commerciali, azioni di co-marketing nonché rafforzare le attuali collaborazioni commerciali E speriamo anche, grazie a questo, di rafforzare anche quelli che sono gli orari degli aliscafi e comunque le corse che soprattutto nelle isole di Stromboli e Panarea sono molto poche e neanche due o tre aliscafi al giorno per poter arrivare alla terraferma Speriamo che questo sia anche un lancio perché si possa trovare un rimedio a questa situazione Da Melbourne in linea troviamo Marcello D'Amico il gruppo marina militare italiana Medaglia d'oro Costantino Borsini ha festeggiato il suo cinquantesimo anniversario Il gruppo marina militare italiana Medaglia d'oro Costantino Borsini ha festeggiato il cinquantesimo anniversario della fondazione Il gruppo marina militare italiana Medaglia d'oro Costantino Borsini di Melbourne ha festeggiato il cinquantesimo anniversario della sua costituzione a Melbourne domenica 9 ottobre presa il salone della Ferrero Reception con inizio alle ore 12 e 15 E andiamo all'ultimo articolo di Salvatore Leone dal pesce sega e pesci falci o martello Il mondo applaude la Costa Rica perché ha emanato una legge che mira proteggere il pesce sega che è già scomparso in molti parti del mondo Il pesce sega è una specie di acqua dolce salata presente nel Pacifico, nei Caraibi e nel nord della Costa Rica Secondo la Unione Internazionale per la Conservazione della Natura le cinque specie di pesce sega esistono al mondo appartenenti alla famiglia delle razze sono in pericolo critico di estinzione Il pericolo dell'estinzione passa anche dalla sua crescita lenta dalla bassa fecondità e dalla maturità sessuale tardiva dalla distruzione dei suoi ecosistemi Inoltre un ambito trofeo da molti pescatori dopo il pesce sega si passerà alla ricerca del pesce falce o alla protezione del pesce martello Con le notizie abbiamo finito per oggi vi ricordo che li potete trovare su notiziarioeolie.it o anche su Facebook scrivendo notiziario delle isole Eolie Io vi lascio con la musica di Sasà e vi aspetto più tardi con la mia live Grazie Sul web la miglior musica la puoi ascoltare solo su Radio Zimmari Le altre sono solo cornici E ascoltiamo un po' di musica amici dai su facciamo un tuffo un tuffo nel passato You know that I want to This is the gentleman George Michael The sad thing I love you The hand to the touch Everybody's got some woman in their lives They can't share Don't they baby I know you don't care What's wrong What's wrong All that I know Is that love don't belong here And so It's better turn the face Watch me walk away Radio Zimmari La web radio Ascoltata in Chile Don't you know that I want you But it's never gonna be that easy I don't wanna waste your time Che bello Che spettacolo nella baia Salutiamo le quattro barche a vele che ci sono nella baia di Zimmari Che fate? Ascoltate Radio Zimmari o no? Sì o no? E' un buon caffè Prima dell'aperitivo Giusto per svegliarci un po' Amici Questa è Radio Zimmari O no? E nel frattempo Voglio ricordare Che Radio Zimmari Trasmette da Panarea Isole Oria E per voi Amici Siamo In Sisi Giorgio 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 A Radio Zimmari Amici You know That Want To L'album Holder A A Radio Zimmari Giorgio 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 Quasi Tutto Tutto il Pomeriggio Dal suo Arrivo Fino Al Alla Alla Sua Portenza E noi Continuiamo Ad andare Ancora Avanti Bella Raga Yeah 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 North Of Loreto Baby Io non ti voglio Ti pretendo Bella Raff Stanotte Ti pretendo Io non ho Che Te A Radio Zimmari Amici C'è Nord Loreto Insieme A Gua E Il Mitico Raff Ti Pretendo Io so che fra noi due più forti sei Sempre tu Ma dammi questa dolce morte Tanto non vivo più Sento che ci stiamo cercando È inutile che dici di no Stavolta compromessi non scendo Sei l'unico diritto che ho Ti Pretendo Sei l'unica ragione che c'è Stanotte Vuoi ascoltare la musica migliore? La puoi ascoltare solo su Radio Zimmari Web Con Sasa Santumau Ti Pretendo È inutile che dici di no Questo amore è l'ho Pretendo Sei l'unico diritto L'unico diritto E ho Yeah G U E Ti pretendo Come un bimbo in Nintendo Come l'estate quando è inverno Come il freddo se sono all'inferno Desiderio brucia dall'interno Io non ti voglio baby Ma ti pretendo a fianco a me sul mio Mercedes Su una città random Ti parlo di Barcelona, Monte Carlo Dimmi dove e quando Sento che ci stiamo cercando È inutile che dici di no Sta notte siamo fuori dal mondo Sei l'unico diritto che ho Ti Pretendo Il nome dell'amore se c'è Se tu mi guardi non Rispondo Davvero non rispondo di me Io non ti voglio Ti Pretendo È inutile che dici no Eccoli qua anche i nostri amici di Torino Ben arrivati anche voi sull'onda di Alla di Gim Salutiamo gli amici del Maryland in Australia Buongiorno, buonanotte Come siamo? Ci siamo Gli ascolti aumentano a dismisura Tutto merito dei tre dell'operazione Radio Zimari Sassà Santomauro, Antonio Staiti e Nadia Sonlansh Grande anche lui Arriva anche lui Nuovamente con noi Marco Armani con Canzone Sincera a Radio Zimari E ve la ricordate anche questa eh? Si ballava, si ballava Ma più che si ballava Si cantava Radio Zimari Web Dillo con una canzone Ho registrato di notte Sono senza voce Ed ho un amore con due facce Ed ho un contratto che non dice Cambiare il mestiere Forse sarò felice Ma so che non sarò mai solo E senza aiuti giuntarcelo Io mezzo a Roma e mezzo inglese Non posso avere un futuro E te lo giuro E te lo giuro Non sei il sola E stare al mondo Se stai in fila E' un incidente di primavera Questa canzone è sincera Oh ragazzi di quest'attivo secolo Se ascoltate Radio Zimari Web Vuol dire una cosa sola E siete sulla frequenza giusta Radio Zimari Web La vostra radio Ma so che non sarò mai solo E senza aiuti giuntarcelo Un po' di sogni per la mia gola E sulla bella il futuro E te lo giuro Non sei il sola Amici anche la Virginia E con noi Salutiamo gli amici di Aschun e Firey Facts Nella Virginia In collegamento a Radio Zimari Questa canzone è sincera Sta, sta canzone è sincera E tu, 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 tu Tanzone è sincera Sincera Un po' di sogni Oggi doveva essere una giornata Di merda E invece E invece Guardate che giornata Che c'è ragazzi eh Io doveva arrivare Che ne so La fine del mondo E non è vero Dicono che arriva giovedì E fra un po' Arriverà lunedì Lunedì prossimo Andiamo avanti allora Marco Mengoni Dall'ultimo album Luce Il brano Che abbiamo estratto Da materia Pelle 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 Difendimi dai lunghi Inverdi Da tutti i dubbi Che non ho Dal mondo Che mi aspetta fuori Dalle mie incertezze Dai miei stessi errori Che puntualmente Rifarò Difendimi dai miei pensieri Che tornano ogni volta Qui Da quell'idea superficiale Che da un lato è bene L'altro lato è male E in fondo non è mai così E insegnami a fluire Come le onde Che si infrangono Continuamente In fondo Al dolce niente Ed anche quando Sembro in grado Di scalare il mondo Almeno tu difendi Le mie insicurezze Tu sei la mia luce E sventi sempre dentro l'anima Anche questa notte Questa lunga notte Senza fine Radio Zimmari Quando la musica Diventa poesia Ma non mi fa mai 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 Difendimi da spettri ed ombre Le solite malinconi Il solito cinismo stanco Che di punto in bianco Rende anche i miei sogni Soltanto comode bugie E quando mi rassegnerò E ritornerà Una notte madre D'incertezza Io l'ho ascoltato Tutto per intero L'album di Marco Mingoni E devo dire Che è davvero straordinario Ma la maggior parte Dei pezzi Sono con altri artisti Collaborazioni importanti Come Guè Come Marrakesh Davvero Un artista davvero Straordinario E una voce un po' particolare Diciamolo E cambia Invece Tu illumini Sopra ogni nuvola Che il sole esiste Che in fondo Una lacrima E non può far mai Mai Non mi fa mai Mai Tu Per me sei luce Proteggi questo cuore fragile Anche in questa notte Questa lunga notte Senza fine Rendimi felice Illumina di sole L'animo Quando nel buio Scivola una lacrima E non farmi male La più bella radio La più bella isola Radio Zimari Web E a Panarea Una delle sette perle Dell'arcipelago Eoliana E salutiamo Salutiamo così Marco Mengoni Con questo fantastico brano Luce Frato Maggino Luce La notte di San Lorenzo Penultimo brano in scaletta ragazzi E poi ci sarà La live con Nadia E dopodichè Il pomeriggio Oggi abbiamo un po' stravolto Le scalette Ci sarà Una mezz'oretta insieme Col mixaggio Di Un grande DJ Chichi Carvaglio Davvero un grande mixaggio In quella mezz'oretta Che cercheremo di Trascondere Insieme a voi Per cui non mancate ragazzi E saremo Unire sempre In là Tutti noi abbiamo due vite La seconda inizia Quando capiamo Di averne buona La mamma fa Sempre Reste Secondo T'ho Vicino a te Ti ho sentita triste al telefono Ma in questi casi le parole non servono Ho bisogno di abbracciarti Da dire e sussurrarti all'orecchio T'ho Vicino a te Sotto le coperte d'inverno Sotto le stelle La notte di San Lorenzo Ho bisogno di abbracciarti Da dire e sussurrarti all'orecchio Radio Zimmari Over the top Vedi nella sabbia Appladiamo il sole Quando tramonta nell'acqua Finché non mi abbracci Con la faccia sulla pancia Finché affidarsi all'altro Non è una minaccia Aria di vacanza Esce marijuana dalla stanza Più che la distanza No c'è uniti una mancanza Guarda le stelle C'è un messaggio nella galassia Siamo destinati a stare fuori dalla massa Tu mi hai colpito Perché parlavi poco Ho capito che nascondevi un mondo Così pulito Che non vedi lo sporco Chi punta il dito Ti cibola addosso Quando tua sorella Presso il bambino pianto Hai fatto volare In alto pallocino bianco E da piccolo gesto Ti ho capito tanto Hai chi muore per te Al tuo fianco Ma siamo proprio all'ultimo brano Caspita E allora prima live Ce l'abbiamo fatta ragazzi Ce l'abbiamo fatta E voi ce l'avete fatta Dove siete? Io qualcuno mi ha scritto Che è in macchina Sta andando verso Verso Firenze Ed è un amico Un amico virtuale Come dice L'amico Antonio Grazie ad Antonio Staiti Per essere stato con noi In questa mattinata Grazie Antonio Io sono Antonio Antonio Staiti Sono quello degli stacchetti Perché diciamolo pure Una radio senza stacchetti È come un albero senza frutti È come una barca senza il pescatore È come un libro senza le parole E poiché siamo in Sicilia Posso dire che Una radio senza stacchetti È come un cannolo senza la ricotta Che bel sound Fantastico Yeah Come on Stititi Davvero fantastico Lo facciamo come sigla Nella prossima live Salutiamo i nostri amici Di Asfice Firefox La Virginia Nonché tutti gli amici italiani E siciliani Gli amici di Palermo Che ci tengono Ci tengono Dove siete andati eh Modello Spiaggia Mare Gnocca Stai ascoltando Radio Zimari Web Con Sassà Santomauro Ed Antone Saiti From To Sicily Davvero ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Salutiamo i nostri amici di Stromboli Andrè Antonio E più ne ha più ne metta Radio Zimari Senza se E senza ma Grazie a tutti E con questa live Salutiamo anche Nandu E vedi come balla Nandu E lui balla eh Balla perché ci segue Anche lui ci segue Salutiamo Peppuccio Ed family Amici Questa Radio Zimari In compagnia di Sassà Santomauro Ed Antone Made in Italy E noi ci ritroveremo Più tardi Ciao 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 Pari ciao Amici come balla Nandu Stai ascoltando Radio Zimari Stai ascoltando Radio Zimari Con Sassà Santomauro Ed Antone Saiti From Tuz 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 Tuz